Gigi a tutti, amici di EvryEye, io sono Alien, ancora una volta in vostra compagnia, come vedete già dalle immagini, questo è Uncharted 4, giocheremo un'oretta insieme in multiplayer, intanto vediamo se chiaramente lo stream va bene, le solite prove di dito per cercare di capire se riuscite a vedermi, vediamo un po', intanto voi state, ok, dovrebbe essere nel frattempo partita la stream, Io intanto, come al solito, informo sui miei canali social che la live è appena iniziata, oh ciao Soul, arrotati subito Conte Dracula, ciao, è il Conte che già, insomma, si fa sentire assiduo frequentatore Conte Dracula, miiii, il Conte Dracula, mi ha rotto subito, mi ha rotto subito Allora ragazzi, mentre voi vi, pian piano, vi assestate un attimino, vediamo un po', io faccio una partita giusto di riscaldamento, come sapete, facciamo così un deathmatch a squadra, come sapete, lo scopo, diciamo, come cerco di portare avanti gli spettacoli, invito qualcuno di voi a giocare con me, Bene, oggi sono in vostra compagnia per un'oretta, ne approfitto, ieri sono stato sempre in vostra compagnia, abbiamo giocato a The Division in zona nera, ciao Neo Squall, ciao Passerotto, ciao Calzino Sono stato in vostra compagnia, ieri sera abbiamo giocato un po' di zona nera, ho cercato di rispondere ad alcune domande inerenti all'aggiornamento 1.2 di The Division Che, appunto, visto che è stato mostrato uno stream sul canale ufficiale di Massive, dove si è parlato di tutte le novità, di ciò che più o meno sapevamo, e ciò che non sapevamo riguardo l'aggiornamento 1.2 Su Destiny è uscito questo leak di un presunto DLC che dovrebbe uscire nel periodo autunnale, presumo verso settembre, che sia un fake o no, questo non lo sappiamo E insomma, oggi, oggi alle 19, ragazzi, oggi alle 19, occhio sui network di Blizzard perché ci sarà qualcosa di nuovo che sarà annunciato alle ore 19 Non ho assolutamente idea di che cosa possa essere, forse un'idea ce l'ho, però non è niente di confermato Insomma, ragazzi, ci sono tante news, ci sono tante news Ciao Tony, ciao Tony che si mette la sua... l'emoticon fantastica Ciao True Max Quindi, mentre io comincio a riscaldarmi un po', ragazzi, e noi aspettiamo un po' di gente che si aggrega Ripetiamo, se c'è qualcuno di voi che vuole giocare, vuole entrare con me in partita su Uncharted 4 Fate pure, non siate timidi Visto che comunque sia, il mio headset non funziona ancora, non abbiate timore, la vostra voce non si sentirà in parte Quindi, se siete un po' timidi, non c'è problema, non c'è problema Dicevo, tanta carne al fuoco in questi ultimi giorni, poi ho visto anche l'annuncio di Gran Turismo GT Sport Che è uno dei titoli che, onestamente, Gran Turismo è una delle mie saghe preferite, una delle saghe con la quale sono praticamente cresciuto Fatemi sapere poi se il volume va bene, se è troppo alto, se mi sentite bene Più che evento è un annuncio, calzino Alle 19 annunceranno qualcosa, se si va sul profilo Twitter ufficiale di Overwatch Praticamente, sul profilo di Twitter, praticamente c'è un'immagine con su scritto Agenti in attivazione, ci sono tre location, Parigi, Hollywood e l'altro non me la ricordo Tony, no, più che altro preferirei mantenere, diciamo, un party di gioco questa volta Anche perché sennò poi non riesco a rispondere a tutte queste conversazioni Quindi, infatti, sto giocando già male così Però dai, vediamo, vediamo Domanda, qual è il difetto più grosso che ho riscontrato in The Division? Il difetto più grosso che ho riscontrato in The Division è l'eccessiva, diciamo, severità del ride Che fortunatamente sarà appunto corretto con, ai ride molto difficili, che sarà appunto corretto con la nuova patch in uscita il 24 maggio Perché praticamente è stato detto, lo ripeto, per quelli che non hanno, diciamo, seguito, che non hanno seguito la live dell'1.2 I nemici di livello 34, quindi quelli molto difficili del ride, saranno livellati Quindi, diciamo, che saranno più facili, insomma Non che sarà tutto più facile, nel senso che lo fa chiunque Però, insomma, come sapete, se avete provato a fare l'incursione molto difficile contro quelli che hanno i fucili a pompa Specialmente si muore molto, molto, molto velocemente Questa cosa non dovrebbe essere più così Cioè, saranno sempre pericolosi, ma non a tal punto da essere sbilanciati Ecco, questa è la speranza di tutti noi Allora, io intanto ammazzo questo Tanto questo adesso compare e ammazzo pure questo Fugia Ciao, pepuzzo, Yuri! EveryEye.t, Yuri! Ciao, Yuri! Quando ti prendi la PlayStation che mi viene a fare un po' di compagnia Che io... Oh! Boom, boom Vieni, Yuri! Hai visto? Arrivano Yuri! Arriva Yuri! Mi ammazzano con le granate Contra Drax I turni che insieme troviamo ciò che a destra manca e non a sinistra Vabbè, Conte Va bene, Conte Allora, aspettate che comincio a settare il party Finisco questa partitina The Division è un buon gioco Dice The Kingslayer Ma è un po' troppo ripetitivo E ha pochissimi contenuti endgame Diciamo che i contenuti endgame Kingslayer forse non sono tantissimi Su questo ti do ragione Però conta anche una cosa The Division è un gioco che è uscito relativamente da poco Se facciamo un confronto con altri giochi Tipo, che ne so, World of Warcraft O anche Diablo Forse è meglio farlo su Diablo che non su World of Warcraft Diciamo che Ci sono contenuti che stanno arrivando Contate che l'aggiornamento 1.1 ha aggiunto qualcosa di nuovo L'aggiornamento 1.2 ha aggiornato qualcosa di nuovo E tutto comunque sia Un aggiornamento gratuito Quindi sono contenuti che vanno pian piano ad aggiungerci Senza contare comunque che Deve ancora uscire ufficialmente la prima La prima espansione Quindi al momento magari non è proprio ricchissimo Però stanno migliorando Stanno migliorando letteralmente Farei la live di mezzanotte Di Overwatch o The Division? E di Overwatch Perché tanto credo proprio che L'update di The Division uscirà Non a mezzanotte Probabilmente uscirà verso le 12 Dopo il maintenance Di solito fanno così, no? Di solito Poi non so Se dovessero cambiare le cose Ciao, è un piacere Guardate i live Ciao Spooky I server di Overwatch Galliani 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 aprono A luna di notte Del 24 Quindi A luna di notte O di mattina Insomma come volete voi Aprono i server E quindi auguri Sì Diciamo che Si aspetta appunto anche questa Quest'annuncio tra qualche ora Volete sapere cosa penso io? Forse sì, forse no Ma ve lo dico lo stesso Secondo me annunciano tre nuovi personaggi E tre nuove mappe Non lo so perché dice Attivazione agenti Io ho visto In uno dei primi trailer di Overwatch In un'immagine La presenza di tre eroi Che non avevo mai visto Casualmente sono tre Ed è uno grosso Tutto rosso Uno giallo Che sembra avere una specie Di tuta antiradiazioni E uno bianco Che sembra la versione Diciamo Umana Del computer Che utilizza Che utilizza Winston Atlas System E qualcosa Bene Allora ci siamo riscaldati abbastanza Adesso esco E così facciamo un party Allora ti aspetto Sono Epertone Certo Ciao Bad Michelle Bad Michelle Ciao Bad Michelle Ciao Bad Michelle Non vi dico chi è Bad Michelle Così metto al sicuro La sua privacy Però sappiate che è una persona Molto importante Ma non vi dico chi è Allora andiamo avanti Nel multiplayer di Uncharted È un gran peccato Che non abbiano inserito Un sistema di livelli Basato su esperienze ottenute Tra l'altro Le partite classificate Vanno giocate per forza Con un team Altrimenti non si combina niente Beh Su questo Non ne ho idea Non ho ancora giocato in team A parte qualche partita Che abbiamo fatto qui Però insomma Capisco Capisco bene Però Ultimamente i giochi Come sapete Stanno molto basando Sul social Quindi Sul fatto di trovare Sul fatto di trovare compagni Per giocare insieme Perché alla fin fine I giochi Oramai non sono più Una semplice esperienza Single player Va bene Allora Cominciamo a settare i party Comincio a chiamare qualcuno di voi Sarebbe bello se ne mettessi altri Se ne mettessi altri tre Di personaggi Penso proprio che Quello è il minimo Perché Blizzard ha detto Che ne metteranno Di personaggi Trampamente Saranno anche gratuite Sta laggando solo a me Oppure di nuovo la telecom Purtroppo ci sono ancora problemi Ci sono ancora problemi Con la telecom Purtroppo Vedo che Sto cominciando di nuovo A perdere i frames Ahimè Domani mattina dovrei riuscire Ad avere un nuovo contatto Con la telecom Per cercare di capire Come risolvere questo problema Che onestamente Comincia A tedearmi un pochettino Vedo che sto perdendo Un bel po' di frames Allora Fatemi provare A usare un altro server A questo punto Perché non vorrei Che cominciasse La solita tiritera Io come al solito Ci provo a fare le stream Certe volte va bene Certe volte va male Sappiate che siamo In una condizione Piuttosto pietosa In questi ultimi giorni Perché telecom Continua ad avere Problemi Problemi di sorta Allora ragazzi Se mi date Se mi date un attimino Se mi date un attimino Ve lo scrivo anche in chat Se mi date un attimino Provo a riavviare Lo stream Selezionando Un altro server Vediamo Se magari Così Lagga di meno Vediamo Sto facendo già i test Ok Ciao numeros Vediamo 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 cosa succede Ho già perso 853 frames Vabbè dai Proviamo così ancora Per il momento Con questo Con questo server Vediamo come va Vediamo come va Se dovesse Se dovesse peggiorare Al massimo Cambio server Cerco di Cerco Cerco Per adesso Lo tengo Dai per adesso lo tengo Magari è stato un momento Allora torniamo a noi Ragazzi Torniamo a noi Cerchiamo di Se avete qualche nome Sparate così vi invito Eh lo so Sono tutti gli utenti telecom Che in questo momento Hanno un problema Di raggiungimento Dei server Ok Michelle Grazie Vedi bene per ora Speriamo che vedi bene ancora Allora Come detto C'è qualcuno che Allora Galliani Vediamo se c'è qualcuno Che vuole venire a giocare Con me Sennò continuo Fino a quando Facciamo così Facciamo così Io continuo Continuo a giocare Io aspetto i vostri nomi Io aspetto i vostri nomi Io nel frattempo Continuo a giocare Così appena escono i nomi No 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 Perdo proprio frame In realtà Cioè Squall I frame che perdo In realtà sono pacchetti Che perdo Essenzialmente Ho fatto dei test di rete E Arrivati a un certo orario I server di Twitch Riducono la banda A disposizione Quindi se io provo a streammare A che ne so 2000kbit al secondo E la banda A disposizione A 1800 Perdo 200kbit Sono tutti pacchetti persi E quindi lo stream Comincia a laggare Essenzialmente Questo è quello che succede In alcuni orari Ma non è un problema solo mio È un problema di tutti quelli Che hanno Telecom In questo momento Ed è un problema Che va avanti Da domenica a sera Quindi Per una volta che sei Su Playstation 4 E non ho un chart De numerus Mannaccia 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 E infatti Chi è? Bad Michelle Bad Michelle Ciao Umbrex Ciao Umbrex Le altre volte che sei Su The Division Sei su One Beh io sono sempre Su Xbox One Per The Division Per il fatto che Insomma Analizzando Cercando di analizzare Un po' Quello che è The Division Anche nei vari DLC Ci sono credo Un paio di DLC Che dovrebbero uscire Trenta giorni prima Rispetto a Playstation Quindi Per cercare di informare Quante più persone Naturalmente capite che Per me è importante Giocare su Xbox One Su The Division Per una questione Di tempistica Spero Non abusare troppo Sniper di quell'emoticon Sennò poi New Skull Si arrabbia E comincia A darti la spadata In testa Non abusare poi tanto Ciao Bougin Allora No ripeto Allora Telecom Come linea Sta andando bene Nel senso Io non ho problemi Di linea C'è un problema Di instradamento Verso Alcuni server Di Twitch Tant'è che io adesso Sto utilizzando Un server Che non è neanche europeo Perché se dovessi usare Quello europeo Mi andrebbe ancora più A scatti E' un problema Abbastanza tecnico Spero che Insomma Domani mattina Doveri sentire Telecom Per cercare di Cioè fornirò a Telecom Tutti i dati possibili E immaginabili Sui server Che devono essere raggiunti In modo tale da mettere a posto Speriamo per tutti Questo problema Elema Overwatch Abbasserà il suo prezzo Dopo l'uscita Eh beh Credo che tutti i giochi Abbassino il prezzo Dopo l'uscita Però Questo non te lo so dire Ci sono alcuni giochi Che abbassano di prezzo Altri che abbassano meno Altri che non abbassano proprio In genere Di giochi Blizzard Raramente abbassano di prezzo Cioè io vedo Diablo che costa ancora Un bel po' Ma dipende un po' Dal publisher Questo non te lo so dire Puoi fare un opening pack Su Uncharted 4 E che cosa ti devo aprire Amico mio Che cosa ti devo aprire Secondo te dovrei prendere Overwatch Anche se non ho amici Con cui giocarci Allora Soul Ovvero c'è un gioco Team based Però Quando vai in matchmaking Comunque cerca di trovare partite Dove ci sono altri Tra parentesi Lupi solitari E' chiaro che E' un gioco Che di norma Dovrebbe andare giocato Di gruppo Nulla toglie Che tu possa Usare la chat di gioco Per cercare di organizzarti Magari se trovi qualche italiano O se mastichi un po' l'inglese Sarebbe meglio Io riesco a giocarci Relativamente bene Anche da solo Chiaramente quando uno Ci gioca da solo Non deve aspettarsi Grossi risultati Proprio perché Essendo un gioco di squadra Capisci bene Che giocare di squadra E' molto importante Chi gioca bene di squadra Vince Ma Si può anche giocare da soli Come ti sembra Uncharted 4 Bugin? Allora Bugin Conta che io Devo ancora finire La campagna Ma è una campagna Fantastica Come Naughty Dog Sa narrare le storie Veramente in maniera Incredibile Sembra un film E credo sia Uno dei giochi Forse il gioco più bello Che abbiamo visto Per E diciamo Esclusiva Playstation 4 E' veramente fantastico Devo ancora completare La campagna Quindi Multiplayer E' molto divertente Nel senso che E' molto free Non è niente di troppo Come dire Complicato E' una modalità Che ci sta Non è niente di esageratamente Competitivo Si fanno quattro spari Se non lo si prende seriamente Ci si diverte pure E credo sia Forse uno dei Forse una delle Esclusive Playstation Che più mi aggrada Insieme a Gran Turismo Che non vedo l'ora Di giocare Credo che Francesco Abbia anche scritto Qualcosina Riguardo a GT Sport Quindi Se non l'avete letto E se siete interessati Vi consiglio di leggere Quello che ha scritto Francesco Se i giocatori sono bravi Si può fare Gioco di squadra Anche senza parlare E' vero True Max E' vero E' vero anche questo E' vero anche questo Però appunto Devono essere Più che altro Devono sapere Quello che stanno facendo E questa cosa Si impara con l'esperienza Chiaramente Quando il gioco parte Uno non deve aspettarsi Intanto che qua La ricerca dei giocatori Continua Interrompa la ricerca All'area avvio Questo Mi era stato detto Che ci sono un po' di problemi Premiamo controllo Ci sono un po' di problemi Con il matchmaking Qualcuno mi aveva detto Su Uncharted 4 Speriamo che non sia di nuovo Così il caso Oggi Già di problemi Ne sto avendo parecchi Ehm Sì Sì Exa Infatti Il matchmaking Non sembra proprio un lampo E ieri Visto la live Di GT Sport Senti Numero Allora Ieri è stata Una giornata incredibile Perché Dopo aver fatto Lo stream Di The Division Alle 9 Appena finito Sono state le 10 Giusto Mangiare veloce Perché prima Avevo seguito Lo stream di The Division Ho cercato di registrare Lo stream in diretta Per riuscire E poi a fare un'analisi Sul mio canale Non ci sono riuscito Quindi mi sono dovuto Rivedere lo stream Per intero Per ricatturare le immagini Sono andato a dormire Alle 2 di notte Perché ho fatto uscire Il video sul mio canale All'una e mezza Perché io sono pazzo Non ho orari Non ho orari Ma tra The Division Ieri mi ha portato via Tantissimo Tantissimo Perché Credo che Quell'update 1.2 Meriti molta giustizia Perché a mio parere È un update Che Farà tornare Parecchie persone Indietro A giocare A giocare Di Division Quindi Ho visto qualcosina Su Gran Turismo Giusto qualcosina Però Bisognerebbe prima Giocarci Ho le mie impressioni Però Bisognerebbe giocarci prima E infatti Vedi New Squall Che da bravo Mod Qual è Ciao Joker Intanto Da bravo mod Qual è Spara l'articolo Su Gran Turismo Ma non si può giocare In modalità multiplayer Locare ad esempio In due Sulla stessa console Senti Bougin Mi cogli un attimo Impreparato Non lo so Non lo so Non ho provato Non ho provato Essendo figlio unico Non ho Dico Ehi ma faccio scendere Il mio fratello Che giochiamo insieme A parte quel fratello Che non esiste Però Se becchi uno In live su Twitch Senza parlantiva Con sto matchmaking Sei fritto Esatto Exa Io Mi ero dimenticato Di portare Il pieno Sto cercando di fare Il pieno Di barzellette Da dirvi O quando Lo string Comincia a laggare O quando c'è Il matchmaking Eterno Niente Il controllo Non funziona Interrompiamo la ricerca Andiamo su Deathmatch Saccheggio Riporta l'idol No A saccheggio No Mi piace più Deathmatch a squadra Ad obiettivi Da solo Così No Eline Secondo te Come sarà Il nuovo ride Destiny Che arriverà a settembre Io Mi è giunta Voce Che sarà Sui caduti Il nuovo ride Non sui caba Come alcuni si aspettano Però Sono solo Sono solo Rumors Si dice Che sia Un'espansione Ancora più grossa Del re dei corrotti Si dice Però Sono solo speculazioni Per adesso Le speculazioni La stanno E la rimangono Niente bugie Niente bugie Numeros Ho visto il tuo video Del nuovo update Di Division Lo hai fatto davvero Grazie Numeros Ma Guardate Più che aver fatto io Bene Il video E' proprio lo stream Che è stato fatto bene Perché è stato spiegato Tutto nei miei dettagli Più che altro Credo che Quelli di Massive Abbiano centrato In pieno Quelli che sono I problemi Di Division Ovvero L'estrema Non difficoltà Direi Punizioni estreme Nei Raiden Molto difficile Zona nera Poco edificante A livello di drop Ma non solo Zona nera Tutto di Division A livello di drop Forse non è Il massimo Da adesso Dalla 1.2 Lo sarà Il fatto di Riveterizzare Il gioco In PvE Quindi andando fuori Dalla zona nera In modo tale Da dare la possibilità A chi magari Non è un fan Di zona nera Di poter giocare E ottenere loot Insomma Hanno fatto veramente Una cosa Che Secondo me Funziona alla grande Come Non hai un fratello E chi è Nicole Bella frate Nicole è un fake Dai ricerca Il giocato d'incorso Mamma mia Sper Meno male Che non chiamo altri Se avessi chiamato Alcun di voi Qua Non avremmo fatto Manco una partita Sapere Non quittavo In quella partita Va Fammi interrompere Fammi rifare di nuovo Deathmatch a squadre Così ne approfitto Per rispondere alle vostre domande Ragazzi E che devo fare Ma Destiny su PC Quando giocavo Su Playstation 4 All'inizio si parlava Che prima o poi Sarebbe arrivato su PC Eh Lo so Secondo me Destiny 2 Potrebbe andare su PC Però Non lo so Certo Sarebbe un gioco diverso Giocato su PC Però Ciao a tutti Ciao Ciao Giovi Lagrandom Snipertoni Eh sì Ho visto che Sta di nuovo Sto di nuovo Perdendo un po' di frame Mannaccia Direi che questo gioco È coinvolgente Poi sono gusti Ovviamente Ma sinceramente È un gioco Meraviglioso Con una trama davvero unica Sì Bugin Sono d'accordo Comunque Tornando serio Credo che The Division È un gioco Che è stato sottovalutato Da molti Che pensavano Fosse Destiny Ma su The Division Bisogna valutare Ogni statistica Eh Sì Diciamo Destiny e The Division Sono stati molto Sembrano un talk show Più che un gioco Ma ragazzi Purtroppo Non mi trovo le partite Che devo fare Tutte le fortune Dicevo The Division e Destiny Sono stati molto accostati Per una serie di similitudini Sono simili in alcuni Frangenti Ma sono completamente diversi Per concezione Non tanto per Diciamo Visuale In prima persona Terza persona Ma Destiny è più un action game Con Poche fondamenta Di RPG The Division è molto più RPG E meno action game Quindi Farsi una build Conta tantissimo Cioè io Voi lo sapete Se vi fate una build In una certa maniera Farete bene In una situazione Adesso con la nuova patch 1.2 Dove non ricalibrano Ancora le armi Lo faranno Successivamente Ci sarà un cambio Di metagame Perché hanno visto Che essenzialmente Metagame di The Division Si basa su AUG Vector MP5 Marina M1A Questi 4 più o meno Tutto il resto Non viene usato Il set sentinella Viene bilanciato Come giusto che sia Quindi Stanno un po' Cambiando le cose in tavola Proprio per dare Un maggiore spazio Alla personalizzazione Mi consigli di chiudere il gioco E riavviarlo Va bene Numerous Faccio come dici Provo a chiudere il gioco E riavviarlo Pazienza Proviamo di nuovo Ragazzi Che dobbiamo fare Salvano domande Per riempire il tempo Eh sì Exa Purtroppo Continua a non trovare partite Mannaccia 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 Every eye Dinamico Da vincente Povero alien Dice Michelle Non mi trova le partite Michelle Non mi trova le partite Sì Infatti Sniper Cioè Tony Ho provato Sto provando a riavviare Così ci vediamo di nuovo Il fantastico Il fantastico logo T Naughty Dog Che mi riporta sempre Alla memoria Crash Bandicoot Io adesso non voglio Spoilerare niente Della storia E quindi sto zitto Però mi ricorda tanto Crash Bandicoot Cioè Mi ho dei ricordi Chi non è cresciuto Di voi Con Crash Bandicoot Io direi Proviamo Vediamo se Mi sono perso Qualche altra domanda Vado un po' più sopra Io non ho mai smesso Di giocare Di Division Questo update Per me sarà utile A far riavvicinare La gente Dice Numerus Sì sono d'accordo Neanche io ho mai smesso Diciamo che È un update Che poi tra parentesi Metterà A proprio agio Sia i nuovi giocatori Che magari Hanno bisogno Di equip E non vogliono Per forza andare Nella zona nera Sia anche per quelli Veterani Che hanno un botto Di equip Perché Diciamo Come sapete O non sapete Nella zona nera Se avete Uno score Di 200 Ci sarà 201 201 o più In quella zona Si dropperà Minimo 182 Se andate nella zona Zn5 Zn6 Minimo 204 E ci sono Molte più possibilità Di droppare Sino a 240 Quindi Capite bene Che trovare L'equip giusto Sarà molto più Divertente A ridaglie Con il lag Purtroppo Ok Ennio Quanto pensi ancora Di streamare Destiny The Division Sino a quando Sino a quando Destiny The Division Continueranno ad offrire Esperienze Esperienze Divertenti Per tutti noi Quindi Essenzialmente Sino a quando Chiuderanno Presto o tardi Non lo so Chiuderanno Ci saranno i sequel Ho trovato i giocatori Mannaccia Pesonnati Ciao Killjovi Io li ho giocati tutti Dice Dice Crota Ho sentito che ne arriverà uno nuovo di Crash Ecco si si dice Ma sono Sapete Sono quelle notizie Su Crash Bandico Uno dice Bellissimo Crash Bandico E poi bugia Eh bugia Ma quali hanno riservati il nome Così Non lo so Non lo so Abbiamo trovato una partita Ragazzi Abbiamo trovato una partita Non ci credo Dopo Quasi 15 minuti Di assoluto talk show La prossima volta Devo far cambiare Un certo Multiplayer Multiplayer Barra Chat di gioco Domande e risposte Q&A Waiting e barzellette Crash vince su tutto Esatto Gioia Maina Crash Crash Io mi ricordo La demo Di Crash Bandicoot Per playstation 1 Nella demo Di playstation 1 Demo 1 Magari I più anzianotti Di voi Se lo ricorderanno Non avete idea Di quanto tempo Ho passato Come non citare Crash Team Racing Insomma Se arriva un nuovo crash Dice numero Se lo vado a comprare Anche lo dici Mi prendo la collector Vado negli uffici di Naughty Dog Mi prendo crash Faccio anche un cosplay Di crash C'è una bugia 86 Parti Vedete Ex Voi siete più o meno Ciao Andrea Siete più o meno della mia età Io sono dell'85 Anche se Alcuni non ci credono E dico Eh vabbè Ma hai finito di fare le superiori Quest'anno Fai gli esami di maturità Mai fare il Tarzan All'inizio della partita Mai fare il Tarzan All'inizio della partita Dice Niente Sono morto proprio stecchito Ora ho trovato la partita La demo one Ne ho scuoto Lo ricordi Vi ricordate la tech demo Che c'era Su Sulla demo one Del tirannosauro Che uno dice Mamma mia Che graficone O il mant Cos'era Quella specie di Cos'era La manta La mantra La mantra Vediamo se riesco a prenderli da qua No 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 Non ci riesco Allora Questi qua O fanno il giro Fanno il giro Vediamo No Io mi imbroglio sempre Aspettate che Devo cercare di arrivare qui Eeeh Così vi offro un po' Un po' di spettacolo Oltre a parlare E basta Facciamo gli Indiana Jones Se riesco a flancherarli tutti Ci divertiamo Come i pazzi A meno che non flanchi Di un ome Non è flancherato Teniamo questo Lascia stare il mio amico Nella cascata No 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 Bamba Mentre ragazzi Momento criptico Catartico E cacchico Muori C'è qualcuno dietro A chi stanno sparando Ok Eccolo No Appugni Morono Boom A calcio Scusate Ognuno dica i propri anni No bugia Ragazzi Non cominciamo così Con l'età Aiaiaiaia Morto Sono a terra Chiamo aiuto Aiutatemi Edy Sam Mannaccia Metal Gear Cool Award Ma cos'è il revival Ragazzi Stiamo facendo il revival Adesso mi chiamo Il tipo Il corazzato Qui Che è un Cula Cool Award Un gioco che mi faceva venire in mal di mare Mamma mia Però Anche quello è uno dei 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 Optimizzati Che Veramente Mi ha Vieni qua Vieni No Ti prendo Ti prendo Sono scoperto Mi sto sacrificando Per te Aiaiaiaiaia Ammazziamo il boss Voilà Bellissimo Dietro 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 Si capisce niente Sentivo delle cose orribili in chat Meglio che me lo dico Cool Award Ragazzi Si Metal Gear Adesso ve ne sparo una Partner Quasi Ceri quasi Continuiamo Adesso ve ne dico un altro Tombi Tombi ve lo ricordate Tombi ve lo ricordate Vediamo chi se lo ricorda Te faccio così Per vedere se c'è qualcuno Dietro l'albero Però Sto un attimino Accucciato Perché quelli Aspetta 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 C'è una granata Oraio granato Voilà Aspetta 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 E se cercassi di flancherare Ecco 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 Ma proprio così Ai 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 Adesso arrivo Megaman Megaman ragazzi Vabbè ma La andiamo La andiamo ancora più No 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 Uuuuh Questo se scende Ma ammazza Se scende ma ammazza Questo Facciamo che A posto Mi sento No no Mi sento più le orecchie Aiuto 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 Mi qui Ti ho preso Tombino Come tombino Oh Oh Boom K.O. 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 Lo giocai solo la dema di tombi da piccolo tipo 300 volte esatto Questo è il bello della dema di tombi Aspetta 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 aspet Mettiamo la zona. Adesso mi metto a piangere. E adesso questi qua dove saranno mai? Questa pistola non è proprio il massimo. Mi hanno marcato. Mi hanno marcato. Quella non si può distruggere, no? Voilà! Scusate, sto cercando di non morire come un idiota. C'è lui le munizioni? Sì! Sta in crisis! Ciao Rock Enzo! Ciao Tamarcon dice true! Esatto, perché noi siamo anzianotti e gli anziani come noi hanno bisogno di rivivere i vecchi ricordi perché, insomma... Ma dove saranno mai? Brutta, 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 pessima pessima, pessima scelta. Ah, merda! Come è di qui? Au, 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 au! L'ha seccato, l'ha seccato. Però stiamo vincendo, stiamo vincendo. Time Crisis che c'era, se non ricordo male, veniva venduto con il bundle della pistola, ragazzi. O sbaglio? Gioco rivoluzionario all'epoca. Uno di quali da salgiochi. Eh, Voodoo, mo' basta, eh. E' a terra! Voglio una parte del merito. Cavolo. Eh, qua si flankera e si vince. Riguardante il nuovo aggiornamento di The Division, che set equipaggiamento consigli, dice Zullo. Allora, i set sulla carta sono una cosa, giocati sono un'altra. Credo che, ehm... Allora, intanto, nella stream è stata detta una cosa molto importante, riguardo il danno, alla resistenza ai danni esotici. I danni esotici sono quei danni che vengono inflitti, tipo dalle granate, dalle mine, dalle bombe attesive. Non so se tu lo sai, ma in zona nera va molto di moda a piazzarsi un botto di parti elettroniche. C'è gente che ha più o meno 40.000 in parti elettroniche e... e sciotta la gente, praticamente, con un colpo. Questo perché i danni da mine non... diciamo, la propria corazza, la propria armatura non copre i danni da mine. Cosa copre i danni da mine? La resistenza ai danni esotici. C'è un set che offre il 50% di resistenza ai danni esotici, credo che quello sarà uno dei set, secondo me, più gettonati in PvP insieme a due pezzi del tattico. Così, uno ha abbastanza parti elettroniche per far male con le skill, allo stesso tempo, forse neanche ci crepa. Ok? Peccato che a Xbox, se no, venivo a giocare io con te ad Uncharted. Eh no, Mattia, Uncharted non c'è per Xbox. Elien, cosa ne pensi di Rise of Iron? Che se è vero è una gran figata e voglio assolutamente quell'ascia. C'è poco da fare. Io voglio quell'ascia, subito. La leggendaria Guncon45, dice in oscola, esatto. La leggendaria Guncon. Guncon era il nome Jap. Qui arrivò come G-Con45, dice Sabnak, che vedo che voi siete molto, ma molto, molto, molto preparati. Giochiamo con una donna. Cioè, io so chi è questa, però non ve lo dico. In realtà è giusto giocare anche con qualcosa che non sia solo un uomo. Per la parità dei sessi. Il 50% con quanti pezzi lo hai? Non ricordo se ha due o ha tre pezzi. Però in questo momento non mi ricordo. Oddworld, dice Calzino Bucato, Oddworld. Ciao, ciao. Chi se lo ricorda? Fantastico. Insomma, sì. Poi c'è quel set che vi fornisce armatura. C'è un set che fornisce armatura ogni volta che voi sparate un proiettile a un nemico. ma vi permette di guadagnare più armatura, tanto più sparate da lontano. Chiaramente l'effetto armatura svanisce mamma mia svanisce dopo un tot o meglio, non dopo un tot, scusate dopo il primo proiettile che viene sparato. Viene sparato il primo proiettile e praticamente una volta che vi colpisce il primo proiettile sono nei guai ok, una volta che una volta che vi colpisce il primo proiettile il buff dell'armatura svanisce ed è un set inizialmente cioè che dovrebbe andar bene con i cecchini voi pensate a sparare ripetutamente con i cecchini avete un buff all'armatura che si applica oltre al nuovo cap che è del 75% al momento se uno si becca più del 65% di ratio armatura non serve a niente essenzialmente. come è andato quello? si è ammazzato. Peppe, ma l'hai già fatto sentire il tuo giapponese? Sì, Yuri però dai vabbè, allora Yuri, io e Yuri quando facevamo i tempi belli cala la notte a me piaceva fare le imitazioni degli accenti che non fossero italiani ce n'era quella giapponese praticamente per parlare giapponese basta parlare urlando come un pazzo no, bugia scherzo ma sta cosa la si può fare? e quindi diciamo lui si ricorda benissimo per esempio io facevo anche l'accento inglese tipo grande questo sono andato diretto contro Mina c'è Mina guarda Mr. Epigod lascia Mina qua perché io cammini sopra e Alexandro che intanto mi dice grazie loro mi sentono quindi sto facendo l'idiota in live vabbè assumi giapponese come dici no, ma non è quello il mio giapponese mi devo preparare psicologicamente per fare il giapponese ragazzi Yuri non me lo puoi chiedere così a freddo a caldo a tiepido come dici un po' tu street fighter ecco mi so preparato o anche c'era un altro gioco ma questo non era su playstation o meglio si era su playstation ma non lo conosce nessuno o quasi king of fighters ragazzi new fighters era è è è a versione molto manga anime di street fighter personaggi molto molto caratteristiche buona morte ah no non sono morto basta con queste mine adesso te la faccio saltare brutto affare allora io vado qua questo sta arrivando sta a fare il tarzan e questo muore non è morto sparassi una granatina sta arrivando no 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 col cavolo eh passi mia idea allora quel gioco faceva the king of fighters e diceva così che i giapponesi che parlano a parlare inglese sono quelli che mi riescono meglio bella Dan Peterson ma voi ve lo ricordate come era quella con la trasmissione del basket il nero martellante il nero martellante aspetta io com'era quella frase di Dan Peterson mamma butto la pasta ok quest quest quest'è un grande rimbalzi vedi difesa i rimbalzi sono molto importanti ciccio guarda la guarda la Monica Garrett guarda la Monica Garrett grandi rimbalzi ok perché tu devi preparare difesa in basket in pallacanestro tu preparare difesa nero martellante nero martellante ahia adesso muorio si bravo ottimo bravo questo non è The Division che devo premere A per ripararmi guardate i soliti errori lo so che mi troverai infatti scappo aiuto 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 ma questo? uccidetelo prenda schiaffi io sono quello bello dice Panic Yuri bell'articolo su multi di Doom multi di Doom che infatti io ho provato la beta però il gioco completo mi sembra più divertente della beta di Doom onestamente sarà un'ima impressione però dai eeeh hai pappato guarda quello che lo soccorre adesso ti sparo una granata e adesso morite fate oh aspettate ragazzi che salto sul posto basta devi morire basta basta muoio io dai siamo a 18 su 18 18 su 18 alien sai dire la super di Anzo mamma mia oh io ti giuro ti giuro che mi ero preparato tutto il tempo per veramente mi ero preparato per dire per dire la super di Anzo però in questo momento non mi ricordo come si dice mi dispiace e giuro che la prossima volta mi porto il fogliettino vicino che cerco di dirvela in diretta però sono in grado di dirla sono in grado chi mi conosce lo sa che skill alien che skill hai visto intanto io leggo delle battute che non si possono leggere ma farò finta di non aver letto io me la sono imparata dice Snipertoni con questa licenza molto bariese me la sono imbarata me l'ho imbarata intanto qua c'è gente che così fuma c'è qualcuno che io ti ho visto questo è immortale dai venitemi a prendere adesso chiamo il tipo qui intanto è bello vedere la gente che si butta giù così ecco qua guardate ah io poi c'ho la pesante non ci penso nemmeno posso fare così? se andassi da dietro facessi guardate 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 qui via 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 ma sono tutti i boss qui macchia no munizioni scarse pistolina alien se vuoi un compagno con cui giocare sono disponibile ok turn next magari alla prossima ti invito fatemi solo morire ma l'ho chiamato io quello sì sì non si capisce niente ma io adesso se sparassi una granata random non vedo niente partner perso allora vuol dire che c'è qualcuno qui ma sto fumo non finisce mai no 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 niente ecco ve l'ho fatta in diretta ragazzi senza un minimo di preparazione poi non dite che non vi voglio bene voi levate la super di Anzo eccola aspetta 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 meglio di Years of War 2 dici Cyber il multiplayer di Uncharted beh sono multiplayer diversi allora magari io dico un'eresia ma sono gusti personali mi diverte un po' più quello di Uncharted 4 come multiplayer perché è più free è meno meno serio forse ma non lo so mi diverte mi diverte di più questo mi diverte di più questo vieni quindi vieni vieni sir 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 qua sto qua qua tipo tipo niente madonna meglio dell'originale non credo sei troppo buono sei troppo buono mi sparo un'altra grenatina stiamo perdendo ragazzi stiamo perdendo che le sono se non devo sforare dove si dice 45 ok falla in loop no 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 yuri già è assai che te l'ho fatto una volta adesso adesso mi emoziono e non riesco più a dirla ma è nostro quello perché non si è visto il coso non vedo niente mamma guarda quelli guarda che mi dirò questo ma fa il giro ma c'è qualcuno che mi sta sparando sento proiettili a caso se facessi in indiana jones della situazione come prima eccomi 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 muori khaled aspetta alex aspetta alex non morire arrivo e mannaccia alex ti avevo detto non morire dove sta questo aiuto naccia naccia ancora una te ne prego no no adesso mi sei dimenticato yuri no 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 ragazzi no ragazzi non fatemi vergognare non fatemi vergognare dai ti dimenticato no oh giù mustafa mannaccia oh no 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 morto detto con voce capricciosa no ma in tutto ciò che significa esattamente quello che urla manzo no non significa li mortacci vostri significa dragone divora il mio nemico questo dovrebbe questo dovrebbe significare non sto scherzando sono serio non perché io conosco il giapponese ma google è il vostro amico anche nostro amico oh ma c'è qualcuno che qua sta rompendo le scatole questo con la pistolina basta è rotto le scatole questa pistolina abbiamo vinto noi per due punti va bene a duken esatto dear max dragone consume il mio nemico tra parentesi quel corto di overwatch l'ultimo l'avete visto dragoni andatelo a vedere vi prego va bene allora ragazzi chi è che voleva giocare con me abbiamo 15 minuti più o meno abbiamo 15 minuti io adesso provo a uscire sperando che io ho paura a uscire non vorrei non ritrovare più una partita però dai vediamo allora aspetta io ti avevo visto il nome prima avevo visto il nome e no me l'hai scritto male me l'hai scritto male Tony solo l'inizio solo l'inizio è scritto bene non si scrive così chocra chocra ok e cioccolate no me l'hai scritto male all'inizio l'hai scritto bene poi l'hai scritto male no bugia ho sbagliato io allora aspetta anch'io faccio errori con i tasti dice badmichelle io mi sono spaventato dice rockenzo chi era che mi aveva sparato il nome tazmoxipukyok marrino bamfili mortecci vostri no non lo dice così non lo dice così allora io avevo letto un nome prima dove sta dove sta so che siete in tanti non riesco a trovare il nome non riesco a trovare il nome dai vabbè dai chi vuole giocare con me vi do oh turnex turnex tipo turnica no è una m no tumex mamma mia meno mai che c'ho gli occhiali scusatemi ragazzi è è la stangatura io sono andato a dormire tardi stanotte raga eh vieni turnex vieni invito turnex se no non ce la facciamo più eh se no mo comincia mo comincia la tiritera che non entriamo più in gioco vediamo però sei uguale eh fai impressione ma in realtà iuri io sono anzo anzi come direbbe lui io sono anzo e poi allora a fuori di allenarsi a dire la super di anzo poi viene in mal di gola io c'è roba che non so c'ho più eh allora guardate donaltan questo mio moderatore che sta giocando ad uncharted bravo bravo donald bravo allora vediamo chi c'è chi c'è turnex accetta la mia amicizia che te invito zi devi accettare l'amicizia zi se non te posso invitare zi vieni online zi non ci stai però cioè dai 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 ti aspetto però bisogna dirla veloce perché se la dite lenta come l'ho detto io adesso non vale bisogna dirla veloce però non ce la faccio in diretta mi devo sono riuscito a dirlo bene la prima volta la seconda male e terza malino però è molto importante il yugawa perché dovete fare yugawa dovete scendere poi dovete salire sembra una lezione di canto oh finalmente qualcuno che parla come anzo ma con l'accento infatti infatti sono belli gli accenti sono belli gli accenti sono belli poi io sono un grande appassionato del giappone un giorno ci andrò ci andrò a chioto oh ecco qua Tumex 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 vieni in party Tumex vieni in party 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 opzione amici Turnex Turnex io ti invito Tumex 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 no Tumex i problemi di Nat ragazzi mi arrendo non sta funzionando niente vabbè immagino in camera che provi e riprovi infatti fai bene a immaginare così Yuri io provo e riprova dai prova e riprova Johnny riprova e riprova il fatto che abbiano normalizzato i dialoghi dei personaggi di Overwatch mi dà molto fastidio dice New Squall però dai almeno sono doppiati benissimo ma proprio bene 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 il corto di Overwatch è doppiato proprio alla grande non so se ce la facciamo in otto minuti Turnex devi accettare il mio invito anche senza che io ti senti in party perché non ti sento se stai ancora vedendo la stream io non ti sento perché ho problemi di nato quindi vieni e facciamo una partita fast prima che finisca così non sforiamo soprattutto Squall Yuri c'è qualcuno esattamente dopo di me non ricordo perché se posso sforare di qualche minuto lo faccio se no devo troncare io voglio andare a non so se sia una vera città quella calzino Elia lo avete trovato il mitoclasta no 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 che devi trovare il mitoclasta non si trova non si domanda la position 4 il mitoclasta non me lo vuole le dare ho fatto due volte di vetro su Xbox One due mitoclasti qua ho fatto 31 volte di vetro chiaramente difficile niente solo il suro se armi brutte anche se il suro se non è tanto male chi è che non vuole andare giustamente Rock Enzo giustamente bene andiamo tu Max aspetta che devo cambiarmi squadra se no giochiamo contro trovo la partita edit match a squadra dai tu Max dai anche se non te sento fa niente dai è il numero se me le vuoi passare però non si può si parla in italiano base Alien il prossimo appuntamento del palinsesto alle 21 ah ok no vai lì shoppe tranquillo grazie zio mamma mia meno male che sta telecamera fa schifo non mi fa vedere tutti i frame che brutto va bene il mio gioco preferito preferito zullo Final Fantasy non so se si vede tutto 7 è il mio gioco preferito niente Tumex non sa da fare no non mi dia che ti ha buttato fuori Tunex mannaccia aspetta che te te prova in vita mannaccia mannaccia al nut nut che non è Black Widow Final Fantasy 7 è quello il mio gioco preferito in assoluto se ho imparato l'inglese lo devo essenzialmente a Final Fantasy 7 mi ricordo quando ero bambino bambino ragazzino a giocare col vocabolare mentre tutti i miei amici giocavano a FIFA 98 mi prendevano in giro è tutto in inglese non si capisce niente che è sto schifo i quadrettoni poi alla fine fine mi è servito perché grazie a Final Fantasy 7 ho imparato mi sono addentrato nella lingua inglese qualche volta cerchiamo di droppare insieme Alien Umbrex se ti porti un corno di dimensioni gigantesche volentieri perché ci vuole più di un corno per droppare Mitoclasta farai altre live oggi? no Andrea no Andrea oggi 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 no oggi no tra parentesi io sono questa è la mia prima settimana su ufficialmente su Evriai di cui questo è il secondo appuntamento da solo o il terzo non mi ricordo boh vabbè forse il terzo non mi ricordo senza papà francese ecco cos'è che mi sono dimenticato qualcuno ha detto ieri mi ha chiesto ma tu sei il figlio di Fossetti Yuri non so mi sono dimenticato di dirlo a Francesco qualcuno ha detto che io sarei il figlio di Fossetti ho riso per mezz'ora Tumex vieni ti prego Tumex impossibile unirsi Tumex mannaggia i problemi di Nat Tumex mi sa che la live tra poco finisce abbiamo 5 minuti Tumex niente provo a cercare una partita veloce boh se no dai proviamo scusami tu non riesco ad invitarti giocatore ho trovato una partita al volo dai vabbè proviamo a giocare la prossima volta probabilmente è anche colpa mia perché PlayStation Network mi sta dando un sacco di problemi dimmi che ti senti dimmi che mi senti Tumex Tumex ti prego ti prego Tumex ma io voglio troppo bene a Tumex quindi piuttosto che andare da solo lo rinvito vedete poi dite guarda io ci sto a provare ci sto a provare in tutti i modi a giocacce a giocacce allora e gli mi consiglio di prendere Final Fantasy 7 su PlayStation 4 e allora io non so come cioè ho visto qualcosa di nuovo Final Fantasy 7 allora io lo prendo anche se tipo mi fanno fare 10 minuti di storia non me ne frega niente ma perché è una cosa mia e ci sono affezionato da quello che ho visto però mi sembra una gran figata ma io lo prenderei cioè mi prendo la Collector non so se c'è una statua di Cloud se c'è una statua di Sephiot meglio o Tifa ma va bene fermiamoci qui quindi sì io lo prendo però e lì in seconda devo comprare il Telecomando Universale mi sta prendo una battuta idiota tipo Meliconi ma me la risparmio comunque sì io lo comprerei più che altro perché c'è un sacco di gente che si lamenta e come ho detto più gente si lamenta di una cosa meglio è niente Tumex giochi in modalità singolo vabbè Tumex ci avevamo provato Deathmatch a squadra vai facciamo un'ultima partita se ci riusciamo sfogliamo di qualche minuto ma chi se ne frega e chi lo sa mi prende una pausa ma va bene Telecom allora come linea sì ma in questi ultimi giorni sta andando un bel po' di problemi ma è un caso insomma con i server Twitch specialmente però si sta cercando di risolvere io ripeto offro la mia completa disposizione a Telecom per vi offro tutti i test che vogliono gli dico pure i lippi di tutti i server che devono mappare perché tanto quelli sono basta poco comprerai GT Sport ma ci puoi scommettere non c'è Gran Turismo che io non abbia giocato io spero solo che il nuovo Gran Turismo abbia un sistema audio decente che l'audio non sia non siano degli aspirapolveri che dai diciamocelo francamente non può reggere la competizione con l'audio di Forza Motorsport cioè quelli di Forza i turn 10 sono andati in alcune macchine hanno registrato 5-6 tracce dell'audio Gran Turismo dovrebbe mettere a posto il comparto audio dovrebbe mettere a posto il comparto dei danni a livello grafico non si discute io ho visto quelle immagini di Gran Turismo Sport sono rimasto così ma devono migliorare audio secondo me e il sistema di danni se lo migliorano allora Gran Turismo è tornato se no ma poi la gente mi guarda qui ma se io volessi disabilitare il mio vabbè se ne frega prendi Chloe no prendo questo tipo qua che assomiglia al mio negoziante di fiducia dei cellulari visto che lo sto vedendo ultimamente molto spesso visto che ho distrutto il mio cellulare facendo l'ultimo vlog mi è caduto a terra da due metri e si è spaccato completamente lo schermo sono 270 euro di danni con Mastercard tornerai a fare live con Yuri ed Elite probabilmente ma non su non su non su non su Destiny più che altro perché su Destiny non ho il re dei corrotti su Xbox One ce l'ho su PlayStation 4 allora a meno che non vengono loro oppure io faccia la vieni qua Doom vieni qua Doom molto probabilmente potremmo giocare insieme ad Overwatch non lo so ragazzi ma io non restituirò il favore dici sì però qua non conviene stare non conviene assolutamente stare qui facciamo una cosa aspettiamo che arrivino o facciamo il giro sì 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 dovrebbero mettere i danni Enzo sì sono d'accordo dovrebbero mettere i danni dovrebbero mettere un sistema di danni più più serio che se mettono un sistema del genere secondo me non va bene che cosa era una mina ma ecco era una mina però peccato 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 era una mina mi ricordo il video con Elite e suo papà sì suo padre gioca gioca a Destiny con lui è una cosa che trovo molto 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 bella so è veramente fantastico sì però raga dobbiamo francherarli che quelli non si smuovono da lì quindi o li flancheriamo o li flancheriamo e tu un ex abbandoni i parti quindi adesso devo cercare di flancherarli tanto ok avrà ancora la 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 mina lì riuscissi a prenderlo magari ok e adesso li aspettiamo noi qui tanto quella adesso arriva da qua vieni mi vieni mi visto flancheralo 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 lo faccio io senza guardare ah guarda quello come scappa guardalo 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 ma che è mutante quello no vieni qui vieni no cavolo eh no grand turismo ha avuto problematiche con le case con le case costruttrici per i danni sì però è strano cioè allora ex io posso capire i problemi i problemi con le case produttrici però è assurdo che un gioco del calibro di grand turismo abbia ancora di sti problemi cioè io non ci voglio credere non è possibile che non che non mettono a posto una cosa che secondo me rovina l'esperienza di grand turismo cioè boh io sì anche wow ho granata menata a cavolo io spero veramente che meglio non andare di qui diciamo che adesso li flancherò no dannazione no sono mine e mine e mine ecco se c'è una cosa che non mi piace di un chart è solo le mine ma non mi piace in realtà in nessun gioco con le mine vabbè final fantasy 7 o final fantasy remake entrambi vabbè è il mio gioco preferito chiaramente il final fantasy originale però un remake li ho presi tutti e due almeno dai ragazzi 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 tv tv oh hey oh mannaccia niente se n'è andato ma avvisi ah tu sei allora ti lascio morire se non sbaglio anche drive club ha avuto lo stesso problema di licenze si ma è possibile che ce li ha solo soli questi problemi di licenze com'è che tant'è non ce li ha questi problemi di licenze vabbè però allora io posso allora ok mettiamo il caso ok ci sono problemi di licenze tutto quello che volete ma è possibile che non si può fare un sistema audio migliore io ho sentito un po' l'audio di gran turismo però è possibile che non si riesce ad avere un sistema migliore di questo qui non direi che scappi tipo pocahontas pocahontas ouch è questo non male che me l'avete ammazzato voi quindi io spero veramente gran turismo che possa mettere a posto le sue pecche che lo rendono imperfetto perché se gran turismo risolve quelle cose diventa torna a essere per me il re incontrastato poco da fare però fino a quando non le risolve Eren preferisci Duraluce o Zalo Duralu Zalo Zalo più che altro per i bonus delle multicisioni è un po' più versateli in PW insomma basta ma fanno solo questo aiuto bello bello il suo corritore bello zio bello zio ehi bravo non posso con la rabbia proprio ne sono super c'è la zalo è buona pure in pvp esatto secondo me sì ecco perché preferisco un po' super shell a Zalo prendiamo questo ma c'è qualcuno giù sono un po' concentrato perché questa la voglio vincere prova a combattere sarà più divertente per me ai 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 male che male eh mannaggia poca onta poca onta mi sta facendo il mazzo a taralla e io adesso chiamo il guardia il guardia porta qua guardia porta a me eccolo qua sorprendimi eh non come lol lol mo ce ne dobbiamo andare da qua eh 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 che male che male che male eh mannaggia poca onta poca onta mi sta facendo il mazzo a taralla e io adesso chiamo il guardia il guardia porta qua guardia porta a me eccolo qua sorprendimi eh non come le altre volte che hai fatto lo schifo mi devi sorprendere zio tant'io già lo so che stanno lì scommettiamo se dovessi buttare una granata random forse qualcuno qualcuno lo becco eh invece però stanno lì eh qua c'è il fuoco il fumo e se dovessi andare dietro attacco colosco bravo al colosso bravo al colossino mannaggia poca onta sempre se la scansa assist 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 aia eh niente oh ma ho preso di striscio ah no non sono morto non sono morto zitto zitto ammazzatelo oh vieni qui vieni every perché sono andato 76 ah state parlando della collector di overwatch eh zio sì e si vince si vince ciao ragazzi ciao dite ciao a twitch è una statuetta non è una figure quella di soldato credo che abbia senso dice gioia maina sì tanta roba tanta roba va bene ragazzi abbiamo sforato di sette minuti però fortunatamente non c'è praticamente nessuno dietro dopo di me quindi le sforature ci stanno mi dispiace che non siamo riusciti a giocare con gli altri ma va bene il nat ha detto ha detto di no la signora del nat ha detto di no allora ragazzi intanto vediamo se ci sono alcune domande ancora per me no non credo ce ne siano allora io vado su indietro interrompere ricerca intanto volevo salutare comunque il povero il povero che non mi ricordo che ha cercato di gioinare aspetta che devo andare piuttosto mi devo ricordare iniziare con la T scusate sto un po' Tumex Tumex dai che sto giocando a Mad Max purtroppo i problemi di nato non c'hanno permesso di giocare insieme allora ragazzi io vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato come al solito su EvryEye nel farmi sentire sempre nemmeno solo visto che l'emozione è sempre è sempre forte quindi grazie veramente per avermi seguito la programmazione continua su EvryEye naturalmente occhio alle 19 ci sarà un annuncio da parte di Blizzard su Overwatch dove secondo me lo ripeto annunceranno tre pro a indovinare tre eroi questi tre eroi che forse se sono quelli che dico io potete ritrovarli se andate a prendere il primo 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 trailer di Overwatch una delle parti finali dove c'è la foto di gruppo vedrete i tre eroi nuovi se sono quelli potete poi richiedermi i numeri all'otto comunque a parte questo grazie a tutti per essere stati in mia compagnia Alien vi saluta ciao gente di EvryEye e non love and peace grazie a tutti